Perugia sempre più capitale del volley in Italia. Un concetto ribadito al Barton Park in occasione del seminario Il Volle e chi lo racconta. Promosso dall'ordine dei giornalisti dell'Umbria, ospiti il presidente della Bartoccini Perugia Antonio Bartoccini e il capitano della 3M Perugia, neopromossi in A2, Marta Pero. Ormai Perugia è diventata la capitale del pallavolo, sicuramente un grande risalto mediatico alla nostra città e questo ci fa solo piacere. Per quello che riguarda noi, la squadra l'abbiamo terminata, adesso stiamo ufficializzando a mano i giocatori per dare, come dire, visibilità a tutti i giocatori del roster. Sicuramente una squadra giovane con alcuni elementi importanti che saranno i capisaldi della nostra squadra, tipo guerra, una calore che è stata convocata per i giochi del Mediterraneo, talenti, quello che riteniamo noi che siano talenti del futuro e quindi sicuramente di amalgamare sotto la guida di Bertini e Giovi. Ma l'emozione è ancora tantissima, ci sono ancora flash nella mia mente, continui tutti i giorni da quel sabato di pochi giorni fa e questo è un motivo veramente di grande orgoglio e di grande fierezza, personalmente parlando, ma soprattutto poi per la città di Perugia, per la mia società. Sono lì da nove anni e li conosco come fossero parte della mia famiglia, io della loro, quindi mi rendo conto che abbiamo raggiunto veramente un grande, grande traguardo. È qualcosa, penso, appunto di unico in quanto siamo in questo momento un grande riferimento a livello italiano per il numero di squadre che si trovano in Serie A tra 1 e 2 e questo è l'esempio di quanto lo sport può essere veramente aggregante. Perugia è emerso, è l'unica città d'Italia con tre squadre di volley iscritte in Serie A tra maschile e femminile, un record che anche lo stimola ad alimentare un movimento in continua crescita come confermato anche da Andrea Lucchetta, voce popolare delle telecronache RAI e ovviamente ex campione della Nazionale di Velasco collegato nel convegno da remoto.